buonasera e benvenuti un po in anticipo rispetto alla sigla che mi arrivava in cuffia non so se è successo anche a voi e benvenuti al pg national spring split 2023 accompagnati come sempre dai nostri main partner knickknacks e kitkat io sono juniper e solo accompagnano i miei carissimi colleghi cristo e walker buonasera tutti ben ritrovati ben ritrovati in questa seconda giornata di quarta settimana vi ricordiamo abbiamo fatto un salto temporale della terza che verrà comunque recuperata oggi siamo al fatidico fatidico giro di boa quindi al primo play day effettivo di girone di ritorno in cui i team andranno piano piano a riscontrarsi magari anche a cercare vendetta vedremo vedremo come detto appunto prima la week 3 però verrà assolutamente recuperata ma prima di iniziare la nostra analisi vorrei dare una sguardo vorrei dare uno sguardo con voi a come si sono adattati i team al cambio di pace abbiamo visto che da questa settimana siamo nel 13.1 b non un cambiamento drastico anche se abbiamo visto la sparizione finalmente di yumi per quanto riguarda le nostre partite abbiamo visto un ritorno di lilia anche se in una partita non proprio fortunata e abbiamo visto anche una presenza maggiore di draven in due partite su quattro devo dire che comunque bot lane wise abbiamo visto più questi questi che spuntare anche in condizioni comunque magari difficili in passato adesso un raven contro che del lux può prendere una vampiric scepter e poi avere accesso a kraken infinity edge shield bomb infinity edge e chiudere anche quella che è stata la bt altro oggetto trama sangue veramente abbaffata e comunque un po va rispondere bene a queste queste bot lane con così tanto poco abbiamo visto la lilia anche e diciamo di difficile lettura per un team che magari non ha le migliori pool come solo lane e abbiamo abbiamo visto una sindra lilia duo che comunque non aiuta molto nonostante l'idea sia in ottimo stato e poi volimi mi viene anche in mente come non ci siamo troppo soffermati sulla top lane in termini di cambiamenti come come quegli oggetti ma sono effettivamente spariti un po di bruiser a favore di il sion di stan boss e abbiamo comunque visto che effettivamente i tank sembrano essere stati aiutati molto nello scontro di power trip contro questi bruiser sicuramente sì anche ieri appunto abbiamo visto sion performare molto bene tra l'altro parandone con stan contro un match up come quello contro set che doveva rappresentare qualche grattacapo per sion però per vedere effettivamente questi bruiser prendere sopravvento su questi hyper tank ci vuole una line up dedicata ci vuole quindi un play style che consenta a questi bruiser di giocare prettamente da sideline con un board crash devono essere dei ovviamente quei bruiser lì le redi ai set potenzialmente anche i darius che sono molto forti a tenere controllo della side a tenere botta in quell'1v1 però mentre lo dico mi ricordo che forse in questo meta in questa nostra lega sarà molto difficile vedere dei top laner come questi prendere sopravvento è un buon momento per un paio di questi sono stan e empiros ma nessuno dei due in questo momento mi dà l'impressione di poter prendere un po' quella quella strada forse ci vuole un con se fiora anche se non è forse il caso di rimangare quell'incidente piuttosto magari empiros può comunque dare un po' sfoggio dei suoi jocks di un darius che tra l'altro anche già giocato in realtà credo però però sì alla fine bot lane matters veramente troppo e sembra essere quello diciamo il carro 3 ma è la stagione peggiore degli adcari da anni a questa parte Cree cosa dici? lo sapevo lo sapevo sapevo che sarebbe arrivato così unplayable che lo giocano anche support come categoria al marx basta basta non l'accetterà non l'accetterà mai perdonatelo ci vuole un po' di tempo lui sta ancora metabolizzando sta somatizzando sta somatizzando il mio periodo da support è uno dei periodi più difficili della mia vita soddisfacente proprio ma entriamo nel vivo della nostra analisi e iniziamo con la prima partita di ieri ovvero outplayed contro axolotl un game che potremmo tranquillamente definire uno stomp da parte degli outplayed nei confronti degli axolotl in cui abbiamo visto uno stand boss e un venzer dominare totalmente non solo il game ma proprio il controllo della mappa gli stand venzer sicuramente un binomio che anche mi viene in mente in quegli engages dove stand prende Sion, preme il bottone, parte questo treno che chiunque comunque si va a schiantare praticamente è la fine degli axolotl che vengono outrangeati e outmacroati outdraftati insomma out un po' tutto speriamo comunque che il fatto di avere un match up come gli op all'inizio della week li possa far riassestare in quello che sarà poi il match up di oggi che andremo a vedere però coraggiosi comunque abbiamo visto proporre pic nuovi, Seth, Lilia non necessariamente diciamo al loro posto considerati appunto i match up mid e bot però sono gli op e comunque ci aspettavamo che andava a finire così e è giusto che sia unilaterale come match up direi sì sì assolutamente sì poi per quello che è stato un game particolarmente buono e arrogante da parte di Stefan che si è preso anche le lodie di Stan in intervista c'era poco che potesse fare quella comp che aveva veramente come unico barlume di speranza per gli axolotl chiudersi e iper scalare però anche lì non è detto che poi avendo dalla propria una liria iper scalata una zero iper scalata con uno solo al proprio fianco hanno avuto gli strumenti per sostenere il burst di quella kali di quella coppia di marksman in bot da letalità varus e kate e appunto per la top non è stato quel tipo di game in cui obelisk prende rush a bork, spacca scafo, distrugge la mappa e poi fa giocare i suoi sempre in 4 contro 3 perché devono tenerlo in 2 sulla side non è stato di quei game probabilmente obelisk non sarà quel tipo di player per gli axolotl abbiamo imparato anche questo suo limite abbiamo forse anche imparato il limite di Kikis di non potersi chiudere a giocare di jungle full clear perché se non c'è lui a giocare di arroganza viso aperto con un graves sulle lane difficilmente la mappa regge e vengono schiacciati in 20 minuti e gli outplayed adesso come diciamo da un po' di settimane si stanno ormai portando veramente tanto avanti rispetto agli altri team a livello di vittoria, a livello di punti messi dalla loro e sono un avversario molto temibile adesso soprattutto ora che appunto siamo al giro di Boa ma continuiamo invece con una partita che ha avuto un risultato che immaginavamo o almeno alcuni di noi ma non l'andamento che ci aspettavamo perché è Webidoo contro Cyberground Gaming abbiamo visto sì Webidoo vincere però non in maniera pulita, non in maniera semplice i Cyberground hanno comunque cercato di opporre resistenza, mettere il bastone tra le ruote anche se purtroppo non è servita sì alla fine Cyberground è il sesto uomo, raids comunque con il libro segreto che tira fuori comunque una bellissima draft e tutto sommato mi è sembrata una di quelle tecnologie troppo avanzate per poi il gruppo di energumeni che ti ritrovi perché mi sono sembrati comunque pesci fuori d'acqua, mi hanno dato quest'idea un po' Vigil, l'ho visto molto vulnerabile col Jace che è comunque in uno stato fortissimo e comunque Jace più Maokai ha dimostrato anche nelle Major quanto siano opprimenti una volta che riescono ad avere un po' di oggetti abbiamo il POC della lunga distanza, Maokai che ti impedisce sia di ingaggiare ma ti impedisce anche di prendere controllo slow avendo tutti i suoi saplings e devo dire dall'altra parte nonostante i Webidoo non siano stati effettivamente pronti a sfruttare il loro Draven che era comunque attivo dopo una lane abbastanza vinta sono stati comunque più facilitati dalla loro comp veramente immediata molto più fitting per la loro identità e non ci aspettavamo sicuramente una fatica così grande ma coraggiosi comunque nel dimostrare di conoscere le proprie debolezze ma saperci andare attorno mentre invece questi Cyberground Wall li avrà anche notato come la loro indecisione, il loro essere veramente troppo forse anche troppo frettolosi arrivati in mid game gli siano poi costati effettivamente il modo in cui potevano sfruttare quei tool così semplici sì, sicuramente c'è da riconoscere il merito agli Webidoo per aver messo la proverbiale pallina di neve in cima alla vallata e aver iniziato a spingerla sin dall'early game comunque lo start 5-1 con la prima kill trovata in bot ha subito proiettato la bot di Draven Nautilus in un'ottima posizione una posizione dalla quale poi si era richiesta anche tanta presenza di Velia sulla bot di Java e Tinelli per compensare un matchup 2-2 che sta venendo perso nonostante appunto il matchup fosse perfettamente giocabile da Varus Heimerdinger mid è mancato veramente quel giusto bullismo che un Jace avrebbe dovuto infliggere al mage con Alessandra è venuto a mancare un pochino quello forse anche Scar non è così del tutto avvezzo a trovarsi a giocare contro Urgot con un pick che come se tira fuori di rado ma quando lo tira fuori non starei saperlo padroneggiare sì, come dicevo scherzosamente con Tanner fuori onda è stata forse la partita più immeritatamente persa di Raids di chiunque altro dei Cyberground perché veramente la draft era molto molto bella dava delle lane molto comode a tutti quanti un midgame molto chiaro forse ecco un po' di esecuzione chiaramente il coefficiente di difficoltà lo aveva più alto però è quello che poi ti darebbe se lo sapessi sfruttare un enorme vantaggio di un game come questo purtroppo nulla da fare Cyberground confermano di essere comunque in difficoltà chiaro c'è l'avvicinamento di Scar per Nuke ma ci sono anche tutti i problemi alla comunicazione che Vigilce ha già compensato esserci in seconda settimana e proseguiamo invece con il Match of the Week o il cosiddetto Match di Cristo ovvero lo sconto, il banger tra Macco e Desire che ormai sappiamo questi ultimi sanno regalarci praticamente soltanto banger o comunque partite interessanti anche se magari appunto non troppo improntate verso lo show anche qui forse è una partita che ci ha messo un po' troppo a concludersi però ha visto comunque la vittoria dei Desire sì, questo continuo snowball che viene a trovarsi dopo l'early game ma non riescono mai comunque a fare queste giocate pulite e i Desire, abbiamo capito, sono quel team a cui piace buttarsi lì nel fango e rendere il game più sanguinolento possibile ma devono comunque un po' andare sulla drawing board cominciare a prendere magari quei Drake un po' prima e dare spazio più a Rilech e Axonix di impostare obiettivi neutral abbiamo visto quanto comunque siano in grado di prendersi kill quando vogliono e devo dire forse più vittime i match che dimostrano forse uno dei peggiori early game che possa mai offrire questa line-up e sicuramente sembra il modo in cui si siano presentati a questo show a questo clash di identità era drafteremo early game anche noi portiamo Elise la Caitlyn Lane e impediamo di darvi il ritmo dell'early game e i Desire hanno detto interessante no lockerò comunque Draven gli metterò un qualsiasi hook champion di fianco e prenderò 6 kill in 5 minuti e diciamo il loro gameplay si è poi attivato mentre abbiamo visto i match che comunque aspettavano l'errore speravano che il nemico in un certo senso perdesse l'attimo attimo che è andato anche perso ansia proprio si poteva quasi sentire nella landa ma devo dire Empyros ancora una volta è un champion che magari non dovrebbero fare così tanto in teamfight e riesce comunque a creare spazio per i suoi carry e ieri abbiamo parlato tantissimo della botten in particolare però Wallet ti lancia un assist secondo me anche Xonix zitto zitto 4-4 è veramente il più presente nel damage charge e il fatto che abbia neutralizzato Sixten anche aiutati dalla draft devo dire perché comunque il pick di Syndra non mi è sembrato nelle sue corde ugualmente a un Silas o a un Irelia però si prende il suo Victor fa il suo e devo dire veramente veramente silenzioso ma efficace la migliore definizione che si può dare di Xonix è per quello che ha sempre rappresentato all'interno del nostro PGNuts ancora ai tempi in cui vestiva Maglia Atleta è sempre stato quel mid laner estremamente efficiente Victor tra l'altro è un suo pick l'ho visto veramente all'infinito forse il suo pick più frequentemente utilizzato in PGNuts sforna sempre grandissimo danno e in questa composizione di Desire tra l'altro trovo molto interessante la collocazione del Victor proprio perché innanzitutto smistare danno c'è grande bisogno di una bocca da fuoco in questa composizione visto che hai top D visto che è la bot monotematica D con supporto persino però lo fai attraverso un Victor che vuole andare a partecipare all'iniziativa di top e bot andando a collezionarsi stack della passiva arrivando anche molto prima ai propri augment arrivando molto prima a rappresentare una minaccia per gli avversari è un Oxonix che continua a migliorare davvero forse tempo fa in una composizione di questo tipo avrebbe ricoperto un ruolo molto più d'aggregario molto più paziente e noi li avremmo visto fare magari 30.000 danni che ha tirato fuori e invece sì anche se il game si è un pochino prolungato è sicuramente stato tra quelli che ha giocato di più della durata non necessaria di questo game vi prendo anche le parole di Ampiros per chiudere bisogna fare pratica sul fare il close out delle partite però perché quei 10-15 minuti con 10.000 gol di lead sono una brutta macchia sulla partita di Desire decisamente volevo solo aggiungere una cosa particolare che non abbiamo detto in analisi ieri quanto comunque il Victor non entra come mono AP Luden Sorcerer e faccio più danno possibile ma secondo me mostra veramente pochissimo ego e opta per i Mercs che completamente nullificano la pick comp dei matchbox Road of Ages per avere quella survivability e comunque capisce il suo ruolo e vi dico per esperienza quanto i mid laner siano un po' di solito le dive del team e difficilmente riescono a individuare il game dove non devono necessariamente diciamo esserne i protagonisti quindi per me la forza di un mid laner è anche capire quando starà al suo posto e l'ho sicuramente notato in Sonic e terminiamo la nostra analisi di ieri con Dren contro GG Esports scontro che ha visto finalmente la vittoria dei Dren un team che ha finalmente rivelato il suo potenziale dei suoi giocatori del suo roster abbiamo visto finalmente Mighty Dragon tornare non nella giungla di Ate ma comunque di nuovo on point ci hanno dato delle speranze d'altra parte però i GG Esports continuano a eluderci direi Abemus Sands Abemus Dragon è stato sicuramente un sollievo vederli comunque non in difficoltà contro la squadra più in difficoltà abbiamo visto anche anche Mighty in intervista comunque un misto tra il sollevato ma anche il vabbè raga dovevamo contro questi GG però devo dire che il fatto che siano risollevati è veramente ciò che secondo me serve di più in questo momento innanzitutto a una top 4 che in totale è discussione aperta ma soprattutto a dei GG che comunque hanno bisogno un po' di direi scollarsi dal magari da quel ghiaccio che pensavamo avessero rotto ma sembrano di nuovo rimessi di nuovo ad aspettare che Forsaken si inventa qualcosa di esagerato a prendere mazzate botlane che prima o poi devono anche fermare vogliamo un po' un risveglio una sorta un po' di carattere merito anche magari l'innesto di un nuovo supporto di fianco a Teion con questa bottline che fa fatica a ingranare però sono sicuro che con così tanti italiani possono portare comunque un livello accettabile rispetto a quello che hanno portato fino ad oggi sicuramente appunto è la giornata dove vediamo prendere l'aria in corsa a Idren ecco forse perché l'avversario non è stato all'altezza del game non possiamo parlare già di un salto spiccato e infatti il match di oggi prende un certo rilievo per Idren prima che si inizia a festeggiare e guardo la partita poco da dire è stato un match up top di totale isolamento e grandi sieste all'ombra del sole cocente della mid jungle e della soprattutto della jungle bot ce ne sono stati lì se ne ha avuto ovviamente un match up vincente per Dream sulla fiora una notizia molto positiva appunto proveniente dalla giungla che per bot ha fatto i disastri 10 KP sia sul carry che sul jungle la testimonianza che la bot era come vorrebbe Enz probabilmente la protagonista del piano dei giochi di Idren ora di nuovo non mi perdo troppo in ottimismi perché la giornata di oggi dirà davvero il cuore della questione dirà davvero cosa hanno Idren rispetto all'andata con il rematch contro Desire che sarà sicuramente uno dei bangers della giornata di oggi a proposito della giornata di oggi andiamo a vedere le nostre prediction perché ci aspettano degli scontri molto interessanti uh ok wow penso sia la prima volta penso proprio di sì 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 soprattutto perché abbiamo esorcizzato Etrurian abbiamo tirato fuori da lui il demone che lo lo forzava a fare le porchere di prediction al contrario quindi sì signore è la prima volta che c'è l'unanimità su ogni singolo risultato di oggi e ci siamo ripromessi mentre la cruda non starà a sbirciare quello che fa non c'è assolutamente la volontà di tamponarci l'emorragia di punti nel caso mio di Juan o di copiare twitter nel caso di tutti gli altri che devono sempre inseguire la stella polare twitter nelle prediction direi che però ci sta la giornata di oggi è abbastanza polarizzata ricordo anch'io di aver compilato le mie prediction in 20 secondi dopo aver visto la schedule di oggi perché sono tutti in chat davvero molto molto polarizzati quello meno polarizzato di tutti forse paradossalmente è proprio desire drain se i drain hanno qualcosa da portare sul tavolo anche quest'oggi ma andremo c'è oggi quindi caccia all'upset caccia all'upset va benissimo andiamo subito a scoprirlo perché è il momento di vedere cyber gun gaming contro outplayed parola ai caster e grazie mille nostri analisti grazie mille giuniper siamo ancora qua giovanetti e carano anche stasera a farvi compagnia per cgg contro outplayed e tutte le altre partite del pg nationals questa giornata che in teoria dovrebbe essere la prima del ritorno però visto che siamo ieri non è non possiamo ufficialmente battezzarla non possiamo dire ci hanno tolto anche questo e quindi ci hanno tolto anche questo ci hanno tolto anche questo ma dobbiamo anche capire come si va a collocare perché effettivamente è una giornata che ci dà dei match già avvenuti dobbiamo dirla così e non possiamo dire nell'altro modo finché non arriva Moonboy qui in studio però rimane la terza settimana di campionato e quindi il che va un attimino a scombussolare anche gli equilibri all'interno della classifica perché dobbiamo discutere di una classifica che si andrà a modificare in base a match già avvenuti outplayed parlando di match già avvenuti non avendo sconfitte all'interno della loro line up è facile capire come è andata a finire l'ultima volta tra queste due squadre ma se andiamo più nel dettaglio a vedere come è finita proprio l'ultima volta tra le due squadre gli outplayed sono stati contro questi Cyberground nello specifico i classici outplayed ovvero quel gioco sporco ma ineluttabile quel gioco che magari non ha bisogno di essere meccanicamente preciso non ha bisogno di andare a premere punto per punto sulla mappa per ruotare perché comunque hanno un team fighting migliore di molti team della Lega in questo momento e quindi da parte dei Cyberground con l'innesto di Scarra sulla corsia superiore c'è da studiare qualcosa di nuovo anche perché Stan ha avuto un'impennata dentro a questo campionato sì ha avuto una gigantesca campionata veramente continua ad essere un performer fuori da ogni logica al momento in cui la top è probabilmente uno dei migliori anzi probabilmente uno dei migliori è veramente un eufemismo ma passiamo a questa banface Draven e Wukong ma nati al lato Cyberground ovviamente via il Draven di Elam occhio ancora alla Caitlyn di Venzer che continua ad essere fuori di testa dall'altro lato Maokai e Jace già tolto non il migliore degli Jace ieri da parte di Vigil è un Jace che Scar ha giocato quindi comunque mantiene un ottimo potenziale di flex bannarlo redside in prima rotazione forse un ban abbastanza spesso in maniera preventiva considerando che c'è ancora tutto botside open e che c'è Elise disponibile soprattutto campione che capisco sia abbastanza difficile da pilotare correttamente perché basta sbagliare qualcosa che rimane molto indietro all'interno della partita ma contiene al suo interno un grosso power budget siamo in 13.1b ricordiamo quindi quella Elise viene loccata istantaneamente come già dichiarato ci sarebbe ancora Renekton a disposizione ci sono un sacco di campioni che sinergisano molto bene con l'Arachnomaga la Maga Ragno vedremo cosa risponderanno gli outplayed intanto diamo un'occhiata alle possibilità c'è ancora quella Caitlyn va gestita infatti arriva Varus che non è Caitlyn però può pronunciare tranquillamente il suo esatto non è detto che non sia adesso il momento di loccare Caitlyn per gli outplayed e giocare quella doppia corsia inferiore che quando è che avevano preso primo mattone settimo minuto e mezzo ecco arriva Sindra però una vecchia compagna di giochi di Varus comunque i due campioni vanno a lavorare con forti controlli in linea retta che arrivano da gittate esorbitanti è difficile per un campione come Elise cercare di navigare teamfight e quindi contro quel Varus e quella Sindra diventa ancora più imperativa l'idea di far performare Elise già dai primi minuti di partita vediamo che cosa verrà inserito in corsia inferiore perché è possibile che i CGG vada a prendere Caitlyn in Lux pur di togliere Caitlyn a Benzer ma questa è una bella risposta perché se non è Caitlyn è un pick in grado di tenere abbastanza sotto scacco quella Caitlyn il problema grosso a cui ti esponi è comunque il fatto che nei primissimi livelli di partita hai uno spell shield contro tanto tanto poco dall'altro lato e soprattutto hai una gittata di 500 unità esattamente tanta tanta gittata dall'altro lato alla fine arriva quello non è Renekton quello è un altro tipo di aggressività un altro tipo di pick da potere fisico da danno fisico sulla top lane o sulla mid lane ce l'aspettiamo più per Scar considerando esatto il mio sguardo era lì era un Irelia mid o un Irelia top perché è vero che Irelia storicamente ha viaggiato bene contro i maghi da Corsia perché pur essendo un campione milì è un campione che riesce a chiudere molto in fretta le distanze e i tempi di stordimento salvo Sindra non vada ad adoperarsi in tenacia sul suo setup di rune permettono comunque Irelia di chiudere la distanza prima che arrivi un disperdi debole quindi comunque in range di trade utile arriva vai per Stefan quindi il match up in giungle sarà il più standard dei match up per adesso ancora dobbiamo aspettare un pochettino prima di vedere il ritorno di Lee Sin prima di vedere qualche innesto nuovo che la 13.3 vorrà portare in questo meta ma gli outplay devanno abbannare un po' qui e un po' lì rimuovono enchanter per permettere a Sivir di scalare 13.1b il gatto è morto ne gioiamo tutti insieme quindi Lulu è l'unico vero enchanter che hai bisogno di rimuovere ma la domanda è Lulu è davvero l'unico enchanter che hai bisogno di rimuovere perché l'angolo per karma non è brutto adesso no non è un brutto angolo per karma certo con Caitlyn ancora a disposizione banato un auto installato dai cyberground c'è tanta possibilità di giocare ancora su quell'aggressione su quel pochettino così insolito dalla botta nel doppio tiratore che ormai siamo abituati a vedere però abbastanza insolito tutto sommato quel gangplank vorrei soffermarmi un attimo perché ok ti porta stembossi su un tank ma potrebbe preannunciare l'Irelia midlane per ad esempio un Xante top lane per scarro ok il problema di Xante contro Sion è che Sion outscala così pesantemente Xante a livello di statistiche difensive ormai con Sion cambia un po' forse la situazione però poteva essere un po' quello l'indizio o anche Renekton è un campione che comunque volendo sì gestisce non benissimo il gangplank il punto è che stai giocando con Elise quindi i CGG stanno giocando molto di più sull'idea che sia la giungla a lavorare in funzione delle corsie rispetto che far lavorare le corsie in funzione della giungla ed è per questo che un pick come Camille già prende un significato molto diverso Camille comunque andrà a scalare su danni puri percentuali una volta che avrà chiuso il suo annientatore divino e quello è un Amumu nella corsia inferiore ok allora Amumu in bot side sta prendendo un po' di importanza ma non è la tipica Amumu draft questa non è una draft che vuole amplificare il proprio danno magico non è una draft che può permettersi di proiettare in avanti un fragile Amumu che ricordiamo avendo tra le sue forme di resistenza una resistenza passiva agli autoattacchi in senso flat quello mi piace tanto ma ci arrivo dopo schierarsi contro un Varus non è semplicissimo per lui deve giocarsi bene nelle sue bandature quella Amumu è vero che la sinergia con gli alleati c'è nell'ottica di dire hai bisogno di quel grosso controllo ad area ma c'erano comunque diversi campioni che potevano offrirti controlli ad area da quella corsia inferiore tra i quali Renata Klask che adesso vede dall'altro lato una composizione che vuole combattere con le mani nella marmellata e vuole picchiare le mani con la marmellata è un'idea un po' strana me ne rendo perfettamente conto ma rende il concetto siete stati mai picchiati da una marmellata? assolutamente no non è una cosa che succede molto spesso Renata Klaska tra l'altro risolve un po' uno dei problemi degli outplay da questo punto che era sì hai la catena della corruzione sì hai il disperdi il debole ma una volta esauriti quelli non avevi la possibilità veramente di interrompere l'avanzata di Irelia di Camille e soprattutto di Amumu con Renata ti metti veramente in sicurezza da questo punto di vista aggiungo un dettaglio a questa cosa perché non solo è un'avanzata incessante quella di quei campioni ma sono tutti i campioni che vogliono autoattaccare esatto sono tutti i campioni che una volta che vengono stregati dalla media di quell'acquisizione forzata una volta che finiscono negli schemi industriali della Glax Industries rischiano di ferirsi parecchio a vicenda è un po' una morale anticapitalistica che mi sento anche di condividere ma magari non schierandomi troppo per quanto riguarda producono i loro danni con la fatica il sudore delle mani e vengono posseduti dal berserk di Renata Glask l'acquisizione è forzata sta andando tutto a rotoli ragazzi sta andando tutto a rotoli ed è partito tutto dalle Glask Industries se tu fossi Renata Glask e all'improvviso volessi spendere questo è probabile molto probabile effettivamente perché saresti a Runeterra dove ti piacerebbe comunque fare il caster non posso staccare lo schermo e farvi vedere nello schermo in game lì assolutamente quale sarebbe il primo social che acquisteresti? non conosco i social di Runeterra no no ovviamente cercando di probabilmente uno quello più facile da pensare da acquistare al momento diciamo che non è abbastanza acquistabile perché c'è un potere economico un po' indifferente non indifferente dietro tiktok quindi è un po' complicato c'è un potere economico ci sono alcune mani invisibili che è meglio non schiaffeggiare con la marmellata come dicevamo prima probabilmente instagram a questo punto ok ok può avere senso e a questo punto mi sarei lanciato di nuovo su twitter per continuare a inspessire il carico devastante che quel povero social sta attraversando ma queste semplici chiacchiere da bar mentre ci accompagniamo a quella che sarà la partita che come potete immaginare è in pausa perché stiamo già entrando nella demenzialità dalla prima partita quindi sì siamo in pausa renata glask che tipo di varus vuole al suo fianco perché trattandosi ok di un enchanter molto aggressivo ma comunque di un enchanter renata glask vorrebbe normalmente il varus on it e la composizione degli outplayed vorrebbe generalmente varus on it perché ai sion ai campioni che possono lanciarsi in mezzo alla mischia e prendere tanto tempo fare tanto peeling abbiamo visto l'altro giorno ragazzi c'è stata una serie incredibile in lpl dove the shy ha chiuso da quasi mvp della serie topside 1-16 ha fatto 1-16 in tutta la serie ed è stato uno dei migliori giocatori del suo team e ha giocato due game di sion e l'ha vinta ovviamente quella serie e sion è quel tipo di campione l'inting sion ovviamente lo lasciamo al maestro all'interno delle sue solo queue ma sion è uno di quei campioni che può in qualsiasi fase di partita lanciarsi dentro a un team fight e devastarlo giocare con i suoi decimare cercare quei grossi controlli ad area rimanere una minaccia post mortem grazie alla sua passiva e questo significa che varus dovrà attrezzarsi a dovere infatti tempo letale sarà varus on it sarà varus on it sarà il via a questa partita cyberground contro outblade scendono sulla ronda degli evocatori e ci prepariamo ad assistere a questo match sto dando una rapida occhiata alle rune non c'è nulla di troppo particolare quindi vorrei soffermarmi ancora sul varus on it brevemente per dire anche che è stata tradizionalmente in questo avvio di stagione la risposta anche a sivir per il fatto che non puoi comunque veramente come dicevamo ha uno special sivir ma se hai solo varus come fonte di poca è veramente complicato quindi te la giochi sullo scaling nell'altro senso si tra l'altro varus lo vediamo con concentrazione assoluta ma soprattutto con la tempesta incombente sia per lui che per di haste quindi un'altra partita che sembra voler andare per le lunghe per raggiungere degli specchi importanti stiamo tranquilli qua seduti volevo parlare anche un po' del match appunto che non è del girone d'andata a questo punto del match di qualche settimana fa tra queste due squadre nella prima altessizione incontrata a parte le battute Outplay del Cyberground perché si è stato un match molto lungo è stato un match molto sudato troppo sudato forse per gli Outplay di allora hai descritto benissimo tu il loro playstyle ancora sporco ancora non pulitissimo ma comunque inesorabile sono cambiate un paio di cose sicuramente intanto Scar contro Stamboss che vi dovremo vedere come si assesterà in questo match up considerando anche che Nuke era stato il migliore del Cyberground in quella partita e soprattutto la 13.1b che per quanto sia cambiato poco sta portando le squadre che riescono a snowballare un po' il vantaggio a rendersi ancora più ineluttabili come dicevi beh intanto c'è un supporto da ingaggio bot side Tinelli sta giocando al League of Legends parlavamo di come la patch nel rimuovere i umidi alle possibilità abbia portato più gioie che dolori invece al giocatore perché era obbligato dal team sottostare a quel tremendo destino ecco un campione come Amumu va a velocizzare molto i tempi di partita perché noi siamo ormai abituati al meta da corsia inferiore incentrato sugli enchanter quindi un meta di 2v2 un meta giocato molto attorno alla priorità di corsia qui bel passo da parte di The Ace per evitare il duetto ma chiudo il discorso sulla bot lane gli initiator a tratti mancano al sentimento popolare di League of Legends perché avere un initiator ti permette di iniziare a lavorare con la giungla in duo proximity cercare anche da una corsia che magari sta soffrendo di lasciare Sivir libera di farmare sotto torre e iniziare a muoversi per abilitare la mappa però nel frattempo Benzer che stavolta non potrà giocare sui suoi adorati tiratori comunque con un'arenata se la cava bene nel prendere le distanze e poi non spara col fucile però spara con le dita fa che è ancora più più bello da quel punto di sto occhio qua di Ace si muove nei minion sta cercando Velia di trovare un inserimento può farlo ora di ottime capire non ha segno bello il flash di Yast sull'avversario per evitare il bozzolo flash in avanti Vigil danza sprezzante un paio di colpi di torre ma comunque first blood trovato da Irelia e Vigil alla fine riesce a portarselo a casa nonostante il flash Yast poteva provare il flash verso la sua struttura topside si stanno picchiando un sacco mamma mia questo però non gioca a favore di Scarra perché è vero è una Camille è vero è felice di trattare ma dall'altro lato Sion sta staccando tanto di quella presa dell'immortale e questo significa HP bonus che andranno ad ampliarsi insieme ad altri HP bonus e altri HP bonus a un certo punto per quanto il tuo danno possa essere sì puro e percentuale o lavori stando appiccicata a Sion per trovare i tuoi protocolli di precisione cosa non semplice stare appiccicati a Sion o altrimenti non lavori e Stefan ne approfitta comunque da quello che è successo sulla corsia centrale per prendere informazioni sulla giungla nemica cercare quindi di giocare attorno alla visione profonda per tenere al sicuro la priorità della sua corsia inferiore cercare quindi di prevenire altri interventi di Elise così efficace in questo epigame ma un po' indietro per quanto riguarda il farm non ha nulla da farmare invece nella sua giungla Stefan Ilamabecchi avversari se li va a prendere Velia si muove verso top lane c'è stato anche un ping ma è passato sul lume quindi Stamboss molla la presa perderà tanti minion in questo caso ma come dicevamo sei un Sion bene o male sono cose che puoi accettare ti dispiace concedere tanto a Camille ma è quello che devi fare la visione su Elise ti permette anche di giocare più aggressivo in botte questa potrebbe essere la prima placatura per gli hotplate ma c'è il wave clear c'è sotto l'ingaggio da parte di Tinelli c'è una bella uccisione da parte di Yava grazie al suo flash e grazie e qui si vede che Venzer non sta giocando i suoi tiratori la posizione era decisamente troppo aggressiva era la posizione di chi giocava dietro la sicurezza di poter scambiare in 2v2 cosa non possibile se è a Mumu ad ingaggiare anche perché Venzer comunque aveva già investito i propri cooldown e quindi era rimasto con un pugno di mosche niente da offrire in quello scambio buona kill sulla corsia inferiore buon inizio da parte dei Cyberground a questo punto non è la patch non è il team proprio la vista delle aquile sembra confondere gli outplayed domanda non mi ero preoccupato troppo del sorvegliante per Venzer perché è qualcosa che si vede su Renata Glask molto spesso ma doppio cristallo di rubino si può trattarsi di Renata Glask da virtù radiosa siamo ancora nella 13.1b e quindi quell'oggetto non è stato ancora nerfato ha ancora un enorme valore altruistico nel concedere velocità d'abilità ai propri alleati quando attivata la Suprema e sappiamo benissimo che per la composizione degli outplayed quella è una Suprema che richiede di premere Stefan e Veia Veia guarda Stefan Stefan non guarda Veia ma sanno benissimo che è lì che situazione bizzarra Mozzolo a segno Vigil abbiamo fatto a livello 6 Stefan rischia tantissimo c'è uno stordimento c'è anche Tinelli lì in zona bendaggio a segno due team peccabile Stefan lo flasha perfettamente ma comunque la kill su Vigil viene trovata qua non bellissimo il destino del jungle degli outplayed non ha giocato bene attorno alla visione non ha giocato bene attorno alle informazioni concesse dalla corsia inferiore perché evidentemente anche gli outplayed sono un po' troppo abituati a questo meta di enchanter sono troppo abituati a non vedere in tempi tecnici a Mumu in giro per la mappa Tinelli ancora il flash Venzer con lo sfinimento ma potrà morire da un momento all'altro ecco il bendaggio ecco la kill questa se la prende Tinelli e ora vediamo se puntano anche su Ellam bendaggio che arriva l'ama boomerang flash forzato a di carri avversario Tinelli oltre ad aver scelto la miglior crema possibile quella rosa sta giocando un grandissimo Mumu sta riuscendo a trovare dei begli angoli per l'ingaggio sta riuscendo anche a non perdere tempo in corsia questa è una cosa importante quando si gioca in initiator devi fare duo procs ma se ti attardi a fare duo procs il tuo laner rimane a non fare nulla specialmente in un matchup con svantaggio di gittata come quello di Varus e Renata Glask invece vai ad assicurare la kill al tuo jungler riesce scusami il tuo mid laner di nuovo la kill ti assicuri di rallentare l'ingresso di Vayne in partita torni bot guadagni un'altra kill ai danni di Venzer che si sta posizionando veramente male su questo campione e i CGG stanno capitalizzando su ogni piccolo errore dei loro avversari stanno giocando veramente bene questa partita sai il meme di Irelia full build con un centro vampirico si Vigil non ci crede è un meme per lui beh vuole passare da altro ha preso tutti gli altri componenti della Dama del Rey Rovina comunque al di là del sustain sui minion ci fai poco nel matchup di letto contro Syndra si anche perché quando arrivi a chiudere le distanze con Syndra ci sono due opzioni Syndra ti allontana tu vuoi uccidere Syndra e a quel punto hai bisogno di AD non hai bisogno di sustain e anche l'attack speed ti fa comodo esattamente quindi è stata totalmente sensata parliamo un po' di narrative parliamo un po' di storia story time with G1 Nettic qua al caster desk perché abbiamo parlato tanto nel 5-0 degli hot played e per come sta andando quest'early game potrebbe essere l'ultimo momento in cui parliamo del 5-0 degli hot played senza esagerare ovviamente beh non è un'esagerazione no sì per come sta andando ora veramente la partita si mette un po' in salita però in verità uno split perfetto c'è stato era quando il PG Nationals era ancora a 6 squadre era il primo split del PG Nationals erano gli hot played allora di Orome e Shadow che chiusero sul 10-0 poi da lì nessun'altra squadra riuscì nell'impresa quindi vediamo se riescono a ripetersi ancora una volta per quanto sia cambiato il palcoscenico sia cambiato l'org sia cambiato tutto quanto quello che c'è alle spalle non c'è praticamente più nel suo ruolo almeno originario nessuno se non gli owner sono ancora quelli dei vecchi hot played sì 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 va detto che outplayed come organizzazione essendo la più longeva del campionato devono obbligatoriamente aver attraversato tanti periodi diversi della loro storia ma comunque sono sempre stati un nome che in Italia è stato sintomo di eccellenza sono sempre un nome che si è fatto rispettare in campionato e adesso indipendentemente da quanto o meno si riesca a perseguire l'idea di un perfect split con questo early game di questo game comunque beh l'ingaggio ancora Tinelli Tinelli non vuole concedere nulla doppio bendaggio su Ellam c'è il salvataggio però la freccia tiene a galla Ellam e le speranze degli outplay del perfect split non se ne andranno una anche per Venzer abbiamo parlato un po' troppo presto qua boy oh boy outplayed che mi smentiscono sull'Umbia mamma mia quale early game Karen scusa come ti sei permesso d'accordo scusate non lo faccio più bel salvataggio da parte di Renata Glask molto ben prese le distanze poi da parte di Varus che è vero si porta al sicuro ma continua a fare danno nel frattempo riescono finalmente anche a utilizzare Stefan che si vendica di quante angherie sono state subite nella zona centrale della mappa e per adesso niente sta andando bene la fase di ripresa se guardiamo il tabellone molto molto bene perché comunque accorci già parecchio le distanze la botta passa in vantaggio anche se leggera credo a proposito di di narrative e di statistiche non avremo le nuove placature famose comunque questa partita oddio se dovessero tenerle vorrebbe dire sarebbe follia che qualcosa sta per andare molto molto storto in quattro minuti di partita e comunque stiamo parlando di un brutto early game in cui hanno preso tre placature finora perché una se ne ha presa stembosse da solo top lane e due le hanno prese bot lane quindi comunque stanno picchiando da quel punto di vista velia bot side cercano ancora di inserirsi su venzer stavolta anche con vigil si minaccia la zona dive deve coprire stefan c'è il teletrasporto addirittura di sindra pur di stare dietro alla corsia centrale avversaria abbastanza obbligatorio di este ringrazia col teletrasporto e quel carretto si è fatto il livello 9 con questo viaggio però nulla di troppo preoccupante un teletrasporto per sindra questo minutaggio ti farà perdere qualche minion sulla mid lane stavi già un po' soffrendo quella Irelia nulla di troppo troppo grave tra l'altro molto buona la rotazione da parte di Vigil appena si sono resi conto che il dive non si potesse mettere a segno immediatamente si spostano di nuovo verso la mid lane appena è stato canalizzato il teletrasporto Irelia era già a metà strada inoltre viene evocato il messaggero Velia addirittura flash è calata terrorizzato dal incedere del team nemico ma l'importante qui è portare a casa la vita assolutamente sì abbastanza abbastanza strana come interazione ma totalmente comprensibile quella che ha fatto Velia in questo caso si salva porta se stesso via da quella zona preoccupante si muove anche verso la top lane ora quindi vedremo se dopo aver preso i cracks avversari si sposterà su un dive o si accontenterà di un se chiamo base mentre Di Ace trova il potenza limiti vigilanza sprezzante per i duri danni però fa male di Ace siamo già in una fase di partita in cui con il solo capitolo perduto si fa sentire anche perché ricordiamo che comunque la riduzione danno sul danno magico non è così efficace come quella sul danno fisico quindi devi comunque stare attento quando giochi contro campioni che possono premere così in fretta parlavamo di placature ne arriva un'altra intanto sulla corsia inferiore non saranno nove ma iniziano a diventare un bel po' su una lane che giocando in vantaggio di gittata ecco un'altra sulla mid lane nel frattempo giocando su una lane che gioca tanto di gittata riuscire a prendere queste risorse prima di Sivir e andare a giocare con quell'arco scudo è molto importante perché comunque i CGG stanno giocando con quegli attimi non di burst ma di scarico istantaneo di cooldown sui loro avversari come abbiamo visto prima sull'ingaggio di Tinelli quell'arco scudo svolge un ruolo fondamentale nel permettere a Varus di tenere a bada la draft nemica assolutamente sì tanto dive dall'altro lato occhio però perché arriva un bozzolo gli è spettato a pesciare via si mangia anche la Suprema e il flash da parte di Vigil Stefan si allontana dovevi sopravvivere devi rimanere a galla con quel Varus quindi è la cosa più importante di tutte non saranno le nuove placature ma a un minuto dallo scadere sono sei con il messaggero preso dagli avversari è un numero comunque abbastanza fuori di testa e mantiene gli outplayed entro i mille gold di distacco che appunto ripetiamo hanno preso due kill ma per come si era messo in early game sono numeri veramente molto bassi Stefan Bozai c'è Ravelli in copertura Elam comunque riesce a tornare in tempo per scongiurare la seconda placatura a favore di Sivir e Amumu Corsier centri Vigil giocare aggressivo sulle ondate e cercare di portarsi in zona scambio con la Sivir avversaria con la Sindra avversaria però Sindra deve stare attenta qui sotto l'ora deve stare attento Vigil in realtà eh sì arriva alla fine una scara oscura non riesco ad andare in avanti Bozzolo che non va a segno quindi Vigil non può rimanere Vigil diciamo che con la madre rovina completata abbastanza sustain per far male però comunque serve avere un altro campione per dare un avventario così Corazza che sta per cadere Elam e Benzer già in forma su quel quadrante inferiore di Eist mortissimo stavolta è una solo kill teoricamente ora arriva Stefan in avanti piazza e colpi spacca ferro shut down preso da vai ma l'uno contro uno contro Vigil ma l'uno contro uno contro Vigil non so quanto sarà facile flash per allontanarsi non è a disposizione ma la calata lo porta comunque in salvo Stefan ha il suo di flash ma non serve una double kill e double crunch per il jungler degli outplayed d'accordo Stefan ballano intanto in bot lane festeggiano sono felicissimi di quanto è successo Stefan al di là dell'aver visto diversi colpi arrivare wireless cortesia della modalità spettatore di Riot che ci ha permesso di vedere i pugni di Vai colpire Elise a un chilometro e mezzo da Elise Vai era in provincia di Elise la stava comunque picchiando bot side sta per cadere una struttura e ci saluta adesso con Venzer che balla la prima torre Stefan mannaio oscura per lui siamo in una patch in cui ancora la virtù adiosa non è stata nerfata quindi arriverà con quella egida come oggetto mitico però avere mannaio oscura considerato sia sulla corsia superiore Varus Onit bot o anche giocare a favore di questa Vai non avevi bisogno di ridurre troppe guarigioni dall'altro lato per quanto la lama da Rirovina a un certo punto rischi di farsi sentire puoi tenerla ferma quell'Irelia è veramente tanti modi per tenerla ferma incollata certo sarà mobile sarà una Irelia danzante però deve comunque camminare dritta verso una Vai verso un Sion verso una Renata ed è un'Irelia d'arco scudo quindi comunque un'Irelia che vuole giocare con tanta velocità da stacco quella Renata le fa un grosso disservizio parlavamo della virtù adiosa è arrivata per Renata Glask ce ne saranno quindi due nella formazione degli Outplayed questo va a premere sul loro punto di forza abbiamo sottolineato che cosa ha permesso agli Outplayed un Oscar andato in nel momento sbagliato arriva anche la corruzione la stretta di mano per trascinarlo indietro pioggia di frecce per giustiziare Camille tempismo un po' sfortunato qua per il top del cyber ground però arriva un vendaggio Tinelli va a inchiodare a terra Stefan con la manizzazione mummiatrista e quanti quanti controlli lo shutdown però va su Amumu arriva il treno dritto il puntuale alla stazione ma deve allontanarsi direttamente arriva anche flasha via di Ace in avanti è da solo Elam va in flasha in perché ha solo quella direzione ma la kill l'ha presa già di Ace ricacciano indietro tutti i cyber ground stem boss a fare da mastino da guardia di fronte ai suoi l'azione dovrebbe esaurirsi non va a segno il bozzo i cyber ground non possono dirigirarsi ma non possono andare sul messaggero gli Outplayed senza il loro jungler buono lo special da parte Java perché quello era un disperdi debole on point si rischiava la carambolata verso l'ennesima morte a favore degli Outplayed che si sono ripresi sul tabellone sono in gold lead all'interno della partita e abbiamo sottolineato che il punto di forza degli Outplayed è il teamfight ne hanno appena messo a segno un altro che non definisco perfetto perché comunque ci sono state un po' di abilità fuori spazio ma è stato proprio il teamfight degli Outplayed lancia tutto ai tuoi avversari perché comunque sai di giocartela meglio sulle meccaniche Elam continua a fare cose che se non fossero anche supportate da una squadra e dalle sue poi esecuzioni chiameremmo stupiche perché quel flash in al di là del muro è alla Malarang è alla Malarang qualsiasi giocatore da un name tag diverso da quello di Malarang sarebbe stato indagato per le azioni fatte da Malarang Elam sta semplicemente prendendo quello stile di gioco e lo sta portando sulla corsia inferiore folle folle quel quel flash in che tra l'altro non gli ha dato neanche la kill non gli ha dato la sita ma l'ha permesso di allontanare effettivamente Yava perché gli altri stavano focussando di haste che era quasi morto ma era il salvataggio addosso quindi giocata veramente perfetta in questo caso per quanto sia stata folle da parte della di carry degli outplay della partita si sta un po' lo dico molto sottovoce calmando per questa fase c'è ancora quel messaggero manca un pochino ancora al barone e manca un pochino ancora al drago quindi se non ci vuole essere aggressione sull'herald difficilmente avremo operazione outplayed un po' sfortunati nella collocazione della landa appena arriva la ripresa attraverso il gioco filtrante della loro corsia inferiore si va a scoprire la landa ed è una landa nuvolosa quindi una landa che avrebbe desiderare cioè gli outplayed avrebbero voluto desiderare una landa diversa avrebbero voluto una landa più aggressiva avrebbero voluto un infernale anche una mortuosa ma occhio qui no non avremo tanti fight assolutamente no Tinelli flasha via da aver utilizzato la sua suprema essersi mangiato un paio di ultimate avversarie riuscirà a raccontarlo spende il suo flash ma ha ovviamente l'ex flash a disposizione nessuna summoner spesa dagli outplayed quindi comunque è una vittoria per quanto sappia di pareggio il problema dei cyberground è cercare di contestare le zone di combattimento perché la composizione dei cyberground vuoi la natura del loro draft vuoi la natura principalmente della draft avversaria vuole essere lì per prima non vuole cercare di inserirsi in qualche cunicolo pur di aver ragione di questi obiettivi perché altrimenti ti vai a cacciare contro la suprema di Renata Glask ti vai ad esporre a quello che abbiamo visto essere la scarica di danno di Elam dopo quella suprema non è un Varus AP non è un Varus da letalità non è un Varus che vuole fare male con le sue abilità ma è comunque un Varus che sta giocando molto bene di Ace la carambolata su due Velia tra l'altro passava lì per caso ed è stato colpito da una sfera oscura come Stefan si trova col bozzolo addosso Stefan va in altrettanto come il suo AD carry va solo in fa lo stesso potrebbe senza limiti che va su una Velia che però è già scappata ma guarda chi è arrivato al binario 9 e 3 quarti mamma mia capocciata devastante per far sparire Velia arriva anche il disperdi il debole stretta di mano non andrà da nessuna parte decimato Tinelli e l'ultimo colpo viene preso da Stefan Outplayed contro Cyberground questo non è il girone di ritorno questo è il girone di andata 2 Electric Boogaloo questa è esattamente la partita che abbiamo già visto tra queste due squadre gli Outplayed sporchi nell'esecuzione della fase di corsia vanno semplicemente a tradurre in una migliore sinergia comunicazione e meccaniche una fase di partita intermedia che non è contestabile al di là di Stamboss che è arrivato a prendere a testate sulla colonna vertebrale Elise dall'altro lato con il suo Sion comunque di Ace si sta muovendo bene qui difficilmente si salverà quel duetto impeccabile non era al top ma Irelia Irelia ok Vigil deve flashare però rallentato un pochino no abbastanza abbastanza sprezzante forse non sarebbe bastato comunque ma ci fatti dare un bel sospiro di sollievo per il mid laner dei Cyberground di Ace l'avevo appena finito di complimentare quindi è giusto dovesse morire era arrivato il suo momento la mia maledizione ormai era lì il marchio sulla sua testa ovviamente il marchio di Zed che quando sai che stai per uccidere qualcuno cambia forma si sente fuoco esattamente fa il tempo Vigil si sposta bot side adesso per lui speranza perduta quindi non c'è ancora il mitico per quell'eree vi alla fine avevo interpretato male la velocità d'attacco all'interno del suo inventario catena della corruzione ampiamente a vuoto da parte di Varus come ragazzi più squishot Vigil vuole fare il secondo si prende anche Stain Boss e no stavolta è piaciuto allontanarsi Stain ma non ha il flash non ha la sua ultima ma potrà fare qualcosa non ha il TP per intervenire questo sarà un drago per i cyber ground abbastanza gratuito è un drago che possono permettersi comodamente di ignorare gli outplayed gli outplayed hanno ancora da assediare la midlane addirittura arrivano dei ping verso il barone Nashor volete fare il drago gratuito ben venga quel drago è inutile non ci interessa noi andiamo a presidiare il quadrante superiore infatti ne approfittano per rimuovere i campi della giungla nemica per piazzare un buon pattern di visione profonda e man mano che i lumi rossi si dispiegano oltre alla linea di centro campo stanno anche cercando gli outplayed un'occasione per un assalto da quei cespugli già guardati il problema è che non si stanno esponendo i CGG e quindi tutto questo gioco passivo e con intenti ingannevoli da parte degli outplayed si sta spendendo in nulla di fatto si molto molto in grado di gestire questa situazione anche perché Sivir semplicemente ti dà quella possibilità di Stefano ho visto un attimo inarrestabile l'ho visto in avanti però ho detto perché ha ultato la veglia e quindi nulla da fare dicevo Sivir ti dà tanto da questo punto di vista per neutralizzare l'azione per impedire agli outplayed di giocare davvero la mappa quel waveclear in millenetro lo sappiamo ormai lo sappiamo fin troppo bene perché si direbbe basta basta tra l'altro questa è la croma con la pizza due gusti è molto importante da sottolineare perché ovviamente a seconda degli utilizzi delle sue abilità cambierà gusto ma Elam molto bravo a tirare destri quanto poco bravo ora capisco perché Varusonit ora capisco tantissimo perché Varusonit perché gli autoattacchi sono a bersaglio singolo non puoi mancarli quelli se non ti chiami Zeri altra torre che cadrà e penso sono tutti quanti li a minacciare un dive waveclear appunto da parte di Yava molto interattivo molto duotente per tutti quanti quelli che non hanno il name tank dell'indale play sopra e sostanziale parità monetaria al momento volevo dare un'occhiata alla goal differenza tra le due squadre perché è stata una partita molto close montagne russe montagne russe nel momento in cui andiamo a fare la fotografia ma è ancora una partita molto close è una partita che fatica veramente a decidersi non abbiamo nessun team che abbiamo mai potuto definire in vantaggio all'interno di questo game ogni volta ci sono stati scambi un po' sul micro un po' sul macro ma ogni volta è stato un ping pong al massimo 2500 quelli di vantaggio per gli upblade al massimo 1500 per i cyberground ma veramente siamo nel reame del nulla gli upblade così battono le mani il barone perché no andiamo Vigil non ha il teletrasporto ma è abbastanza vicino da portarsi lì a piedi teletrasporto disponibile invece da parte di Scar se lo sono mangiato ma decidono occhio su Yava Tirelli si tuffa dentro arriva la munizione di un metrista Stefan ma arriva la bellissima condizione forzata Vigil trova un flank splendido Yava è libero di picchiare Vigil va in cancella Elam il baron dà un assist importantissimo ai cyberground una doppia uccisione per Yava una kill anche per Vedia l'unico in vita è Stembosse ma non può farci assolutamente nulla e adesso possiamo dirlo abbiamo un team che finalmente possiamo definire in vantaggio non solo per la gold lead ma perché abbiamo visto che potere enorme quelli Relya riesco a scaricare dalla midlane durante i team fight e questo è un grave problema di considerazione da parte degli outplayed di nuovo i cyberground saranno aquile ma qui sembrano avvoltoi ogni volta sono lì ad aspettare la carcassa da mangiare ogni volta sono lì ad aspettare che gli outplayed commettano un singolo errore per punirli verso l'irrecuperabile e questo team fight sì sarà stato un singolo errore andare a prenderlo ma è stato un grosso errore non non capisco sinceramente l'idea perché ok bastare il drago con il varus unit ok tutto quello che possiamo fare però te lo devi aspettare che nel team fight aperto nel 5 contro 5 pulito specialmente se non riesci a gestire il flank di quelli Relya come dicevi giustamente che ha fatto quello che voleva nel fight l'acquisizione forzata non ti può bastare specialmente se Tirelli trova l'inserimento che ha trovato esatto Tirelli ti ha sconvolto il fight già perché per quanto sia stato il primo a cadere comunque nel frattempo il tempo l'ha preso comunque si è mangiato la super medie vai vai Stefan profondità indebita non puoi permetterti di morire così in fretta e se sei il jungle attorno a un barone anche perché se da un lato almeno Sivir ti garantisce la possibilità di pulire a prescindere dal barone le ondate lato outplayed non è altrettanto semplice viene meno tutto il wave clear di Sindra viene meno buona parte del wave clear di Sion diventa difficile gestire le corsie laterali in 1-3-1 e l'1-3-1 dei Cyberground è molto forte perché possono cercare di disingaggiare sul trittico centrale grazie alla super medie Sivir possono cercare volendo di isolare un bersaglio separato con la super medie Amumu insomma è una draft che riesce a elaborare più piani di gioco contemporaneamente perché non deve cercare di oh 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 che male eh fa proprio male fa proprio male è una solo kill prova ad andare in avanti fa su Ellen Flash nella base avversaria si tuffa dentro ancora indietro mamma mia e lo shutdown lo prende lo zombie ma una doppia è una doppia uccisione da parte di Vigil lo spadaccino di Cosenza con le sue lame ne cancella due perché lo mettevano su Karma? non lo so perché questo giocatore ogni tanto lo vediamo giocare utility? capito perché non si sta ribattezzando in Sixten 2 oh Scarfleshing arriva l'ultimate tritto su Diace non trova il bendaggio Tinelli arriva in la posizione forzata Scar forse il passo più lungo della gamba ma Velia sale su e quando torna non ci sarà Diace ad accoglierlo cadrà anche lui per mano del jungler avversario anzi no del supporto avversario perché pensa da prendere la kill ma pagano con la torre l'inibitore scoperto adesso 7-3 l'Irelia di Vigil sarà anche caduta ma portarsi a caso la doppia uccisione con quel gioco di gambe fuori dai cancelli della base è stato incredibile e quella è un Irelia che sta demolendo completamente gli outplayed sta negando ogni condizione di vittoria vantaggio monetario sulla midlane totalizzante se vediamo sul resto dei ruoli dei vantaggi che comunque possono essere compensati con uno shutdown un singolo buon teamfight dalla midlane non si torna indietro oh 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 tp 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 ed è proprio il millenier che sta arrivando stavolta forse però un po' troppo indebito quanto tempo può prendere quanti hp ha quanto sustain ha ma non è il flash deve danzare col pulsatore più staccato stavolta il passo è quello più lungo della gamba continua a curarsi pericolosamente ma lo shutdown viene restituito a Elam in questo caso e cioè nel senso la smetto di fare complimenti ai giocatori potrei smetterla questo game è strano è strano forte teletrasporto in mezzo all'interno team nemico senza la minima presenza di alleati lì in zona è stato bizzarro è un drago della nuvola che ok è il suo foito ma è comunque un drago della nuvola anche se avessero preso anima posso capire il perché non dare l'anima ti dà quel qualcosa va bene è stato il secondo shutdown sono serviti due shutdown per togliere la taglia dalla testa di Irelia morta prima aveva comunque una taglia di 150 gold sulla sua testa per via della doppia uccisione adesso almeno gold reset generale ha comunque 2500 gold di vantaggio rispetto a di Ace quindi penso che quella taglia tornerà subito cioè veramente subito 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 bisogna vedere però se quelle giocate torneranno subito o meno perché adesso Vigil deve tornare a giocare per il team prendersi un attimo di respiro non forzare alcuna giocata adesso che non hai il teletrasporto non puoi commettere errori davvero verrai punito in maniera fin troppo severa ottimo qua la stessa parte del nostro observer che ci sentiamo che non c'è assolutamente visione nella giungla degli outplate da parte dei cyberground quindi scar è bloccato e non può andare in avanti anche il terzetto in mid lane in questo momento è bloccato e rischia anzi di subire il collasso perché Tinelli è in avanti Yava è fin troppo in avanti arriva però un bellissimo scudo Tinelli si mette in avanti a fare da guardia il TP sta arrivando ed è quello di Scar ma direzione pulmiatrice per bloccare tutti i quadri sul posto è un 4 contro 5 un po' rischioso Stain Boss va giù per mano di Yava Vigil sta arrivando ora sul flank senza flash a disposizione però non può inserirsi nel fight li salvano tutti quanti i cyberground anche Tinelli molto basso in HP ma possono continuare a pushare Tinelli è al di sotto delle 100 unità gli HP in uscita da quel fight ma comunque è riuscito a fare molto più di quanto gli outplayed essero cercato di protrarre nei suoi confronti è un Tinelli che ha preso tempo ha preso spazi hanno provato ad allontanarlo dalla zona da combattimento con la stretta di mano per evitare che la maledizione della mumia triste riuscisse a prendere secondi importanti però comunque Tinelli è riuscito a risolvere il fight e a sopravvivere per raccontarlo in tutto questo Vigil non era neanche presente stava arrivando dal fianco e Vigil adesso ci torna sul fianco per andare ad assediare l'inibitore denudato sulla corsia inferiore cooldown del teletrasporto di Vigil ha un terzo mancante potrebbe essere totalmente operativo quindi potremmo già vedere un po' di attenzioni sulla zona del baron rinascere infatti il recall adesso da parte dei Cyberground ci hanno soldi da spendere c'è probabilmente un angelo custode per Skar da completare sul prossimo reset ci sarà il fulcro dei geli da parte di Vigil e ci sarà un altro fervore infatti quanti stop ci hanno preso insieme vogliono risolverla col prossimo teamfight e qui gli outplay devono rendersene conto premendo tab devono vedere quegli stopwatch nell'inventario avversario e devono rendersi conto che non è possibile fare un 5v5 Tinelli aspetta omicida la di carri avversario è sposta in mid lane va ancora in avanti Skar utilizza il primo di quei cronografi poi Tinelli cade ma ci pensa Veli a fare il disastro occhio all'intervento di Vigil che sta arrivando occhio all'entrata della spadaccina delle lame danzanti di Vigil l'occhio a Yava che continua a picchiare ci pensa Venzer a disingaggiare a tirare indietro il Cybergun alla fine è un 3 per 2 non quello che volevano i CGG Tinelli ha aspettato tanto ma forse è costato troppo queste suoi devono sempre stare attenti gli outplayed perché se Stefan è giù i CGG in 2 potrebbero puntare al barone Nashor e infatti vediamo Vigil e Yava andare a pulire visione proprio attorno a quel quadrante tanti danni percentuali da parte di quelli Relia tra l'annunciatore di vino e l'amma del Reirovina tanto danno grezzo aggressivo da parte di quella Sivir con quella build che può agilmente resettare con l'amma e navori i suoi rimbalzi ma alla fine da parte di CGG è un semplice presidio profondo cercano di rimuovere come possono la visione nemica non la rimuovono neanche tutta e quella che secondo te che cos'è? metà diavola metà margherita col salame? c'era del verde quindi probabilmente c'è qualcosa con verdure però non sono sicuro bisognerebbe ricontrollarla un attimo effettivamente quella pizza sarebbe strano vedere la striscia di imbattibile degli osped di esaurirsi in questa partita contro i Cybergond ma non per i Cybergond che stiamo vedendo oggi per i Cybergond che abbiamo visto finora occhio alla caccia grossa occhio all'ingaggio la parte di Scarra ma cosa ha fatto Tirelli ancora una volta è partita la lama dell'avanguardia è partita la danza e cade l'Irelia la mid lane dei Cybergond ma continua a picchiare in avanti Yava continua a trovare gli shot down a lanciare la salame Boomerang in avanti Tinelli prova a velocizzarsi prova a correre i Cybergond continuano all'inseguimento Scarva in salvataggio di Venza su se stesso ma è la tripla uccisione la quadra che l'assegno da parte di Yava Stefan torna indietro Stefan torna indietro va sotto la torre carica lo spaccaferro vuole giocare un po' a fare il verme sul lamo ma i Cybergond non hanno intenzione di lasciarle in vita vogliono andare in avanti vogliono chiudere quel game vogliono quella pentakill vogliono trovare la firma sulla partita che ha interrotto la striscia di imbattibilità degli outplayed vogliono prendere questa kill ma la prende Velia perché perché Velia ma perché i Cybergond fanno ancora 1-1 perché sono loro a battere la capolista a interrompere il cammino verso il perfect split corto un pochettino il rampino poco importa c'è una casualties sul campo e Tinelli che ha firmato l'ultimo decisivo fight della vittoria CGG il perfect split degli outplayed finisce qui ed è per mano loro parlavamo no gli outplayed una delle più storiche org italiane sinonimo di successo qual'è l'altra? i Cybergond quelli che hanno fatto regia ce le abbiamo ancora le prediction hanno fatto la Cybergond hanno fatto ce le abbiamo per caso ancora le prediction giusto per sapere perché allora capiamoci rubiamo stipendi olio su tela nel senso quale occasione migliore per rimontare l'opinione comune assolutamente complimenti complimenti CGG sono riusciti ovviamente a superare le aspettative questo già intanto da parte di Coach Cristo dal desk c'era la caccia all'upset il primo è arrivato non abbiamo dovuto neanche attendere tanto per trovare il primo e sono questi Cybergond era l'upset che ci meritavamo e di cui avevamo bisogno sì abbiamo dato la caccia e si è fatto vedere subito tranquillamente che partita ma anche perché effettivamente se l'opinione generale era così unanime dal punto di vista della broadcast crew era perché la giornata di oggi rischiava di essere una giornata noiosa rischiava di essere una giornata quasi troppo prevedibile e invece vedere Vigil che tira fuori questa Irelia nel game anche importante dei Cybergrand perché sappiamo bene la maledizione dei Cybergrand sempre ad un passo dai playoff sempre ad un passo dalla fase successiva di campionato hanno bisogno di portarsi a casa questi punti perché siamo in una fase di piginaz dove tutta la seconda metà della classifica è molto caotica molto bollente e bollita da alcuni punti di vista quindi portarsi a casa questo punto inaspettato a inizio girone di ritorno è eccellente io devo purtroppo rovinare un po' tutto quanto perché mi stavo preparando mentalmente abbiamo i candidati MVP intanto e voglio vederli subito voglio vedere quel nome qua voglio vederlo Vigil scritto perché parlavo di lui mi stavo preparando mentalmente a urlare cosenza still stands ma non è arrivato non è arrivato quel momento è morto per primo nel team fight finale esatto ero pronto lì il cervello un attimo si è spento ma grande fight finale da parte di Tinelli grande partita da parte di Yava mancava solo quella firma mancava solo quella pentach veramente avrete l'imbarazzo della scelta a votare in questo caso e sarò sincero è vero Vigil ha avuto una performance individuale meccanica ma soprattutto di imposizione prepotente del campione molto dominante però se non ci fosse stato il roaming matto di Tinelli dai primissimi momenti se la chiesa di Tinelli non avesse riaperto i battenti per accendere un cero al loro santo oggi non so quante risorse quelli re li avrebbe vantato se ne è prese tante sulle corsie laterali ma dopo che già la midline era stata risolta dagli early game roaming ed è questo anche il bello di avere engager support ti vanno a risolvere la partita prima che la partita inizi puoi giocartela sulle impostazioni di mappa puoi giocartela tra l'altro su un team che ha cambiato molto di recente la sua formazione che ha avuto pochissimo tempo per scrimmare con questa nuova formazione e già ha limato così bene la comunicazione di squadra bentornati CGG bentornati CGG e bentornato Scarra che sentiremo tra poco intervista con Wallcat pausa e possiamo